Allora, l'argomento di cui io parlo è incentrato su un libro che ha quel titolo, lì che vedete, Statistic, Logical and Mathematical Proof, che è il frutto, dopo molti anni, di una collaborazione con Paolo Mancoso, che è un professore, insegna italiano, ma da tempo si è negli Stati Uniti, e insegna a Berkeley. Durante un incontro a Pisa, l'avevo invitato a fare le lezioni, con Paolo ci siamo tanti anni fa, ci stupivamo, cominciamo ad accoggersi che c'era una convergenza su un fatto singolare. Ci stupivamo del fatto che per tantissimi, per secoli sostanzialmente, ci fosse questa vulgata diffusa tra i logici e i filosofi, secondo la quale la sillogistica tradizionale, in particolare il sillogismo aristotelico, fosse uno strumento sufficiente per eseguire le dimostrazioni matematiche, sostanzialmente le dimostrazioni euclidee. Noi sappiamo che ciò non è, in sostanza sono motivi, dal fenomeno di Churchill negli anni 30, al secolo scorso e poi sappiamo che non è possibile, però non era questa la cosa che ci sorprendeva. Ci sorprendeva il fatto che gli autori che sostenevano la fattibilità delle dimostrazioni euclidee o matematiche in generale, attraverso il sillogismo, quando provavano a fare la dimostrazione, incontravano ostacoli e difficoltà che ignoravano completamente. Il problema era come mai, perché, e poi c'è qualcuno che invece ha reagito a questa questione, e quindi ci siamo messi a guardare un po' questa tradizione, che è lunga perché parte da Aristotele e arriva sostanzialmente fino alla seconda metà dell'Ottocento. Questo problema si intreccia con un altro problema, che era quello da cui originavano certe mie ricerche, ed è il fatto che per circa 2000 anni nessun logico si preoccupa di approfondire la logica delle relazioni. Se uno prende il punto più alto dello sviluppo della logica prima degli sviluppi 8-9 centeschi, che è il periodo medievale, vede che ci sono tanti, girano tantissimi testi che analizzano, per esempio, il comportamento dei condizionali. E i medievali danno molte liste di teoremi di logica che vale per i condizionali, per esempio, tutto ciò che antecede all'antecedente antecede al conseguente in un condizionale. E continuano a dare, oppure chi nega il conseguente deve negare anche l'antecedente e così via. Non c'è niente sulle relazioni, eppure le inferenze relazionali sono frequentissime nella vita ordinaria, se A è padre di B, B è figlio di A, se A è la sinistra di B, B è la destra di A e così via. Non solo, ma anche e soprattutto in matematica. Nessuno gli viene in mente di mettere a norma, di capire cosa succede con la logica delle relazioni. E questo rimane un problema. Noi abbiamo fatto un'ipotesi, ma è un'ipotesi di cui eventualmente parleremo la volta prossima. Allora, intanto, che cos'è un silogismo? Un silogismo, c'è una lampia letteratura che analizza il silogismo aristotelico, si cerca di capire come funzioni, come cosa sia esattamente, che avete lì dei testi, Crivelli, Corcoran, che è un testo che ha fatto proprio Scuola, anche lì a Jonathan Lear. Poi anche Sgarbi e Cosci sui successivi sviluppi della silogistica, Smiley, che è un bellissimo testo, affronta proprio il problema, e Paul Tom, che ha dedicato un intero libro, un librone di 200 pagine all'evoluzione e alla storia del silogismo, e poi ha riflesso il tema in una raccolta di scritti sulla logica medievale. Ecco, noi però non ci occuperemo di tutto ciò. Daremo per scontato che si sappia che cos'è un silogismo, nel senso che a noi basta sostanzialmente questo, la forma più semplice di silogismo, quello che si chiama di solito il silogismo in barbara, tutti gli uomini sono mortali, tutti i greci sono uomini, tutti i greci sono mortali, in modo quasi formale tutti gli A sono B, tutti i B sono C, tutti gli A sono C, ossia giù avete, al terzo punto, avete la rappresentazione simbolica del silogismo inventata da Leibniz. Naturalmente A sta per universale affermativa, A e B sono C sono i termini. Quindi sostanzialmente questo è l'argomento un po' di cui parleremo, senza problematizzare il funzionamento di questo strumento, ma tenendo presente che per tantissime persone, tantissimi filosofi e logici, da Aristotele in poi, questa è la forma canonica dell'argomentazione a cui qualunque dimostrazione matematica dovrebbe essere ridotta. Allora, due osservazioni preliminari. La prima è abbastanza sconcertante. Logica e matematica nell'antichità e medioevo sono sostanzialmente due tradizioni, danno luogo a due tradizioni, basate una su Aristotele, analitici primi e anche analitici secondi, per quello che riguarda filosofia, diciamo, della logica, e Euclide e gli elementi. Sono due tradizioni che viaggiano su binari paralleli, non si incontrano. Non si incontrano vuol dire non c'è mai nessuno che dica, ma il sirogismo aristotelico, o lo strumentario aristotelico, o viceversa, lo strumentario che il matematico standard adopera quando fa un teorema di Euclide, sono sufficienti, che tipo di strumenti sono, eccetera. Aristotele si occupa occasionalmente, fa esempio occasionalmente di dimostrazioni matematiche, ma è solo un rapporto occasionale. Euclide, nei commentatori di Euclide, tardi commentatori, si cimentano, questi tardi commentatori, con la sirogistica, cercando di far vedere che, in alcuni casi, la sirogistica si applica a fare queste dimostrazioni. Ma non c'è nessuno che sistematicamente cerchi di avvicinare questi due tradizioni. Un'altra cosa da tenere presente è che, se si guarda la storia delle relazioni, l'antologia delle relazioni nel mondo occidentale, nella cultura occidentale, si vede che il canone è fissato da Aristotele per secoli, per due millenni, è fissato da Aristotele il capitolo ottavo delle categorie. E da lì in poi, gli sviluppi sono molto limitati rispetto a questa tradizione. Quindi, i due punti importanti sono i rapporti tra logica e matematica, Antichità, Medioevo e poi oltre, e l'ontologia delle relazioni. Allora, nell'antichità abbiamo i commentatori, poi di Aristotele, di Euclide, Papa d'Alessandria, proprio che usano strumentari logici sia degli stoici, sia degli aristotelici, però quasi mai senza dichiararlo, quasi mai dichiarandolo, e sostanzialmente nessuno affronta mai il problema sui rapporti reciproci nelle due discipline. Durante il Medioevo le due discipline erano addirittura insegnate in ambiti diversi, il Trinvio, che era composto dalle discipline letterarie, grammatica, retorica e dialettica, cioè logica, e il Quadriglio, invece, consisteva delle discipline scientifiche, aritmetiche, astronomia, musica e geometria. E soltanto durante, per quanto strano, assurdo possa farire, è soltanto durante il XVI secolo e la logica e logica e matematica cominciano a comunicare. Allora, è importantissimo in questo caso la riscoperta degli elementi di Euclide. Non è che gli antichi, che i medievali non conoscessero gli elementi. Abbiamo degli commenti agli elementi fatti da medievali, ma se uno li va a vedere, sono per certi aspetti disarmanti che la matematica è veramente povera. E poi, sembra che proprio non ci sia quasi interesse per la disciplina e è solo con il rinascimento, sostanzialmente, fine del 1400, inizio del 1500, che si riscoprono, è una vera riscoperta degli elementi di Euclide, nel senso che si riscoprono in lingua originale, cominciano a circolare tantissime, traduzioni, e l'altro aspetto è che da quel momento lì si generano due movimenti, uno della logica, che è lo che io chiamo due movimenti, della logica verso la matematica e della matematica verso la logica. Allora, il movimento della logica verso la matematica, ci sono due signori che iniziano a fare una cosa abbastanza curiosa, questi due, Cristian Erlinus e Conrad Asipodius, che nel 1566 pubblicano a Strasburgo un libro intitolato Analisi geometrica, Analisi geometriche dei sei libri di Euclide, il primo e quinto fatto da Cristiano Erlino, l'altro, eccetera, eccetera. Cosa fanno? Prendono, cominciano dalla prima proposizione di Euclide che è tracciare il triangolo equilatero su una base, sul segmento di base e da lì in poi fanno tutte le dimostrazioni tentando di sillogizzarle. Uno va a vedere e rimane perplesso perché di sillogismi ce ne sono ben pochi. C'è il modus ponens, c'è tantissime regole di logica proposizionale, però ogni tanto diciamo compare anche il sillogismo ma il loro intento è di mettere a norma secondo la logica aristotelica i libri di Euclide. È un primo tentativo però di cercare di vedere come la logica tradizionale si adatti alla dimostrazione matematica. Poi c'è un movimento della matematica verso la logica, l'algebra, lo sviluppo dell'algebra in particolare con Viet mettono al centro quest'idea che si possa usare un linguaggio simbolico in cui soprattutto si usano lettere dell'alfabeto per indicare o segmenti oppure numeri e con quelli poi si possono fare dei calcoli e sono suggestive dell'idea che si potrebbe forse fare così anche con gli argomenti logici. Poi c'è questa Hobbes era un mediocre logico, un pessimo matematico però diciamo si deve a lui quello che è una specie di slogan che è fondamentale per la diffusione poi di un'idea che di cui si ha proprio l'Ignus ed è l'idea che sostanzialmente il ragionamento non sia altro che un calcolo. I ragionamenti che noi facciamo più ordinari sono in fondo dei calcoli di tipo matematico e voi avete qui il passo che ho tradotto dalla computazia psichologica con il ragionamento io intendo un calcolo ora calcolare o mettere insieme la somma di una pluralità di cose che sono sommate insieme o sapere quel che rimane quando una cosa è sottratta da un'altra. Il ragionamento perciò è lo stesso che sommare e sottrarre. Gli esempi che poi fa Hobbes nel proseguo sono ridicoli e se quello volesse dire calcolare pensare a calcolare non andremo molto avanti però l'Ignus la considera proprio la sua bandiera e nella dissertazione delle arte combinatorie il primo libro che lui scrive è importante dice che quello è proprio il motto a cui bisognerebbe attenersi perché effettivamente chi pensa calcola è come se facesse un calcolo combinato quindi questi due movimenti uno di persone che cercano un po' di vedere se la logica riesce a dar conto delle dimostrazioni euclidee e l'altro invece dei matematici che cominciano a porsi il problema e se si usasse la matematica per esprimere il ragionamento logico questi sono i due elementi e qui avete un pezzo un pezzo di Jonathan Barnes lo lasciate in inglese nei suoi elementi euclide prima mette giù certe verità primarie o assiomi e poi deduce da quelli un numero di verità secondarie o teoremi ancora prima che euclide scrivesse aristotelo aveva descritto e raccomandato quella concezione rigorosa della scienza per le quali gli elementi forniscono un paradigma perenne tutte le scienze dal punto di vista aristotelico dovrebbero essere presentate in forma assiomatica come sistemi assiomatici e questo è il messaggio principale degli analitici posteriori e le deduzioni che derivano i teoremi di qualunque scienza devono essere fatti secondo quello che c'è scritto negli analitici primi ecco si considera l'esempio perché Aristotele dice negli analitici posteriori le scienze matematiche cioè aritmetica geometria ottica e in generale le scienze che indagano che si incalcavano e sviluppano le dimostrazioni mediante questa figura cioè la prima ecco il paso generato da questa affermazione poi ripresa da tutti i successori fino a 1800 risiede nel fatto che è empiricamente false allora gran parte della letteratura secondaria Vance Mendel ha cercato a fatica di dar conto di affermazioni simili ma ciò non ha avuto rinnovanti conseguenze sullo stupore che colpisce il lettore dei testi greci di fronte al fatto che quasi nessuna attenzione è dedicata alle dimostrazioni matematiche in quanto tali quando entrano in gioco esempi matematici hanno soprattutto un carattere strumentale nel discutere argomenti specifici che non mettono in dubbio l'assunto generale secondo il quale appunto il sillogismo è la base di ogni dimostrazione ora intanto si comincia a vedere che in Aristotele la nozione del sillogismo è abbastanza ampia lui dà una celebre definizione che non definisce per nulla il sillogismo ma definisce un'inferenza in generale un sillogismo è un discorso nel quale poste certe cose qualcos'altro differente da quel che è posto segue di necessità da quelle cose questo si adatta a qualunque tipo di quasi quasi qualunque tipo di differenza eccetto per quelle che ripetono una premessa per esempio e ancora avanti si dice che la sillogistica predicativa di Aristotele è o può essere ricostruita come un sistema detuttivo assiomatizzato gli assiomi sono i certi principi di conversione e subordinazione c'è un principio di riduzione all'impossibile una regola di esposizione o eccesis e poi i teoremi sono certi principi di conversione e subordinazione derivati e poi c'è un numero infinito di sillogismi in sostanza Aristotele menziona due sillogismi i primi Barbara e Barbara perché ha tutti gli annunciati positivi c'è l'Arend perché c'è bisogno della negazione e poi anche Aristotele usa questi come assiomi per derivare tutti gli altri il dogma con le radici in Aristotele consiste nel ritenere che ogni sillogismo in senso proprio è riducibile a un sillogismo in senso distretto anche nel senso distretto tuttavia c'è un certo grado di libertà nel determinare ciò che Aristotele accetta come asserto categorico quale tipo di termini posso comparire al sillogismo come deve essere interpretata la copula a partire eccetera e questo è un testo quello che menziono fondamentale da questo punto di vista allora Artifica è la discussione in Analettici Primi 1.24 di un esempio matematico in cui si dimostra che gli angoli adiacenti alla base di un triangolo isocere sono uguali in questo caso l'applicazione di quella che in Euclide diventerà una nozione comune cioè che regola l'identità serve a mostrare che in ogni dimostrazione deve esserci almeno una premessa universale tuttavia la struttura della dimostrazione non è rivolta a alcuna attenzione ed è un esempio interessante perché lo discutono sia Alessandro di Astrodisia sia Filofum ed entrambi lo usano per sottolineare che la riposizione sillogistica di una riposizione matematica richiede un'assioma universale cioè riguardante l'identità e al tempo stesso permetterli bene in chiaro che la natura sillogistica della dimostrazione è un dogma che non si può toccare c'è una voce alternativa nell'anticità ed è Galeno Galeno si rende conto che il sillogismo tradizionale aristotelico non è sufficiente per dimostrazioni matematiche e Conia un terzo tipo oltre ai due tipi aristotelici di Aristotele categorico e ipotetico e Conia questo inventa questo sillogismo relazionale e dice questi sillogismi differiscono sia da quelli categorici sia da quelli ipotetici c'è anche un'altra specie una terza specie di sillogismi utili per la dimostrazione che è impiegata in virtù di qualcosa di relazionale mentre gli aristotelici sono obbligati ad adoperare tra i sillogismi dedicativi i sillogismi relazionali sono caratterizzati dal fatto che un nuovo assioma è necessario per rendere conto della loro validità ovvero come afferma Galeno i sillogismi relazionali sono in accordo con un assioma Galeno sottolinea l'importanza di se fatti i sillogismi per aritmetici e per chi effettua calcolo e dice questa è la citazione dato che c'è quest'assioma universale che ha in sé stessa la nostra garanzia vale a dire che cose uguali alla stessa sono uguali tra loro è possibile sillogizzare e dimostrare nel modo in cui Euclide ha dimostrato il suo prima farema nel quale dimostra che i lati del triangolo sono uguali cioè in realtà è un problema non è un teorema poiché dal momento che cose uguali alla medesima cosa sono uguali tra loro e si è dimostrato che il primo e il secondo sono uguali al terzo anche il primo sarà uguale al terzo allora e quindi però quanto se ne sa il povero Galeno si limita a questa osservazione gli stoici alcuni stoici tengono conto di questo però non si ha notizia di qualcuno che sviluppi questi siloicismi relazionali e le loro proprietà all'inizio del Medioevo Abishen e Al-Gazel due arabi filosofi arabi analizzano la prima proposizione il problema del primo libro degli elementi che è un mantra tutti quelli che il 90% di coloro che sostengono nella storia della logica della matematica che sostengono che il silogismo è sufficiente a dar conto delle dimostrazioni di un'idee danno solo un esempio a parte Erlino e quell'altro strano personaggio che è il primo problema del libro primo degli elementi e ricostruiscono la dimostrazione strutturando dai quattro silogismi o cose analoghe questa è una esplicita ricostruzione silogistica di un teorema eplideo prima che Piccolomini che è quello che pone effettivamente il problema nel 1747 se ne occupi allora è probabile che Piccolomini siccome era molto famosa la logica di Al-Gazel che fa un misto da vicenda e poi di cose di Al-Gazel avesse visto ma non è possibile noi siamo riusciti a ricostruire il nesso con Piccolomini eccolo qui i due silogismi sono questi i due non ho fatto la figura che ci sarà dopo qui è importante la struttura diciamo dell'argomento i due segmenti A-G e B-C cioè quindi A-G e B-C sono i nomi dei due segmenti sono uguali al medesimo segmento cioè A-B questa è la prima premessa ma ogni due segmenti che sono uguali alla medesima cosa sono uguali tra loro dunque i due segmenti A-G e B-C sono uguali tra loro dove emerge subito un problema grosso che il silogismo ha un solo un solo soggetto e qui ci sono due soggetti c'è una coppia di soggetti per cui deve valere il predicato ce ne sono altri e e comunque questa è per darvi un'idea dei tempi questo è l'argomento più affine a un silogismo che siamo riusciti a trovare e questo in Avicenna e da Garza Alberto Magno affronta anche lui il tema della dimostrazione silogizzata e alla fine della dimostrazione della proposizione 1 sempre la solita scrive può dunque essere silogizzata in questo modo ogni triangolo ventilato uguale a linee che dal centro raggiungono la medesima circonferenza è equilatero ma il triangolo A-B-C è stato costruito sulla linea A-B e 20 ecc dunque è equilatero e dopo aver proposto una dimostrazione alternativa data da Al-Nairitz si afferma è facile inoltre dare a tutte le dimostrazioni di questo tipo la forma di un silogismo ma già qui è facile vedere si vede facilmente che allora se io ho una struttura un'appropenunciato che ha la struttura a forma soggetto predicato e voglio far centrare dentro relazioni o qualche altra cosa posso ampliare gonfiare in qualche modo il predicato buttando dentro insomma un po' la spazzatura sotto il tappeto e cercare di costruire un silogismo ma però poi le cose non funzionano lo vedremo meglio poi in seguito allora Kilwarby che è un altro logico questo è un logico ma gli evagli più importanti cerca di dimostrare che la tesi con la tesi che gli angoli alla base di un triangolo sono uguali tutti gli angoli dei semicerchi sono angoli tutti gli angoli di semicerchi sono angoli uguali AC e BD sono angoli di semicerchi gli angoli AC e BD sono uguali tutti gli angoli di un segmento sono uguali già questo ha una struttura pseudo che potrebbe entrare nel silogismo però non è banale tutti gli angoli di un segmento fare una generalizzazione universale di questo tipo e poi va bene c'è l'altro enunciato e quindi la conclusione poi tira fuori un altro tipo di silogismo però sempre con lo stesso problema coppie di elementi e poi generalizzazioni che non si sa bene come regola ecco nel periodo medieval la logica cominciò a fiorire con Adenardo e all'incirca nel medesimo periodo Adenardo di Bat traduce in latino o manoscritto arabo degli elementi l'edizione di Adenardo fu seguita da altre traduzioni fatte da fonti arabe e dalla traduzione a opera di Gerardo da Cremona nel testo curato da Ishaq Unaimna quindi non è che nel medioevo non conoscessero gli elementi solo che ripeto i commenti sono extremamente poveri e poi non hanno interesse per ricostruire le dimostrazioni eccetto quegli autori a nostra conoscenza che abbiamo citato nel secolo XIII Campano da Novara prepara un testo dell'opera di Euclide che poi è usato da Luca Pascioli e di Cono Tartaglia per le loro edizioni nella seconda metà del XVI secolo gli elementi furono tradotti in varie lingue moderne l'italiano tedesco francese inglese vedete tutte in periodi di anni abbastanza vicini spagnolo olandese nello stesso periodo cominciarono a circolare in Europa manoscritti greci originali e Bartolomeo Zamberti tradusse gli elementi in latino direttamente dal greco avviando una nuova era nella ricezione filologica del testo nel 1533 Simon Grineus pubblica l'edizio del testo greco quindi vedete è proprio una rinascita totale però è soltanto nel commentario sulla certezza della matematica di Piccolomini che compare un'accurata di costruzione in termini sidogistici di una proposizione equidea motivata da uno specifico programma filosofo questo è il testo il titolo Alexander Piccolomini e Mechanicus questione Aristoteles e nello stesso testo c'era chiuso commentario per certitudine matematicare un dicemulare perché Piccolomini è preoccupato si preoccupa del problema se la matematica sia lo strumento adatto per la dimostrazione se il sillogismo sia uno strumento adatto per la dimostrazione matematica allora com'è la struttura della dimostrazione secondo la tradizione quindi editata dai greci c'è un enunciato del teorema da dimostrare che è questo e poi c'è la costruzione quindi la protesi c'è l'enunciato su un segmento dato si costruisce un triangolo equilato c'è l'esibizione che è o una costruzione o c'è il punto di partenza nel caso del teorema che stiamo considerando c'è un segmento si prende un segmento questa è l'ecnesis si fissa il segmento c'è la determinazione dello scopo cosa si vuol fare la costruzione si dice che puntando il compasso nell'estremo A e con raggio pari al segmento si traccia il raggio e così via che le due circonferenze si incontrano ad un punto eccetera e poi c'è la FODEX la dimostrazione ora di tutto questo annese qui quella che conta è la FODEX cioè è lì che si deve esercitare il silogismo prima ci possono essere tutta una serie di regolamenti non silogisti ma lì si dovrebbe misurare la FODEX proprio con il silogismo e poi la conclusione la conclusione è sì i due lati del triangolo A-B-C sono uguali allora il punto importante è che la scienza aristotelica è fatta di silogismi scientifici tra le strutture frequentate di un silogismo scientifico c'è che essi sono causali uno silogismo scientifico perché dimostra la causa Piccolomini non critica la nozione di una scienza aristotelica e il ruolo del silogismo scientifico piuttosto il suo scopo è mostrare che la ricostruzione silogistica dei teoremi geometri di Euclide mostra che i silogismi non sono causali contrariamente alla richiesta di Aristotele però questo a noi non interessa è però per spiegare la motivazione quindi non è nemmeno in piccolomini il desiderio di far vedere che la silogistica è sufficiente a fare dimostrazione aristotelica e dimostrazione Euclide anche in lui lo scopo diciamo è ferogeneo questa è la figura per fare la dimostrazione e questa è la foto exis dal momento che il punto A è il centro del cerchio Cbd Cd scusate no Cbd va bene è il cerchio che è alla mia sinistra AC è uguale ad AB perché sono raggi di uno stesso cerchio il cerchio questo più a sinistra ha due raggi AC e AB che sono uguali di nuovo dal momento del punto B è il centro del cerchio CAE BC è uguale a BA cioè gli altri due raggi ma si è dimostrato che CA è uguale ad AB dunque ciascuno degli schermetti CA, CB è uguale ad AB e coso uguale alla medesima cosa sono uguali tra loro dunque eccetera eccetera allora di tutti sviluppa vari sillogismi non conviene stare dietro noi nel nostro libro siamo stati molto puntigliosi il lettore poi sarà franto penso quando lo guardano perché abbiamo preso ciascuna di queste dimostrazioni e analizzate per non angustiarvi ulteriormente prendiamo questo secondo sillogismo cose che sono uguali a una terza sono uguali all'un l'altra ma AC e BC sono uguali alla terza linea AB AC e BC sono uguali all'un l'altra tra loro allora la quantificazione plurale intanto qui abbiamo una quantificazione plurale cose che sono uguali a una terza questa sembra fare riferimento a una premessa della forma tutti i phi sono q ma quale sarebbe come rappresentare il soggetto phi in questo caso lui dice no cose che sono uguali a una terza sono uguali tra loro ma AC e BC sono uguali a una terza linea AB e allora prendiamo per esempio la premessa minore AC e BC sono uguali alla linea AB AC e BC è una pluralità una coppia e si dice che sono uguali alla terza linea il silogismo avrebbe forma P allora P Q P e Q tutti i phi sono Q ma come rappresentare qui P e allora noi diciamo proviamo con per P essere uguali a un terzo e essere uguali a un altro per Q ma allora noi dobbiamo intendere i due predicati come se fossero soddisfatti non da oggetti individuali ma da coppie o pluralità di linee per esempio AC e B dove le parentesi non vogliono dire che c'è un ordine possono essere tranquillamente l'uno precedere l'altro quindi la proposta è P il soggetto della premessa minore lo prendiamo come se avesse una coppia come soggetto e allora diventano due cose che sono uguali alla terza cosa sono uguali tra l'altro bisogna ricondurre uno alla forma federale tutti i phi sono Q tutte le cose che sono uguali a un'altra cosa phi sono uguali a loro Q AC e BC sono uguali al segmento AB e la 4 diventa AC e BC sono uguali al segmento AB quindi abbiamo fatto queste trasformazioni per rendere diciamo per mettere nel vestito del sidocismo quella inferenza lì quindi viene tutte le cose uguali a un'altra cosa sono uguali tra loro AC e BC sono uguali al segmento AB dunque AC e BC sono uguali tra loro ora se si accetta la trasformazione rimane il problema del termine medio che nella prima premessa è essere uguali a un'altra cosa e già qui le cose non sono messe bene e nella seconda essere uguali al segmento AB perché ciascuno ha annunciato del sidocismo che sia posto nella forma del soggetto predicato abbiamo bisogno di fare in modo che i predicati piangino come si dice si applichino a coppie o pluralità o linee per di più per stabilire la premessa minore abbiamo bisogno di dimostrare come evidente per costruzione due proposizioni che BC connette il centro del cerchio ACE con la circonferenza che AB connette il centro del cerchio ACE con la circonferenza e però qui allora dobbiamo scrivere una cosa del genere BC connette il centro del cerchio ACE alla circonferenza e AB e quindi abbiamo una enunciata proposizionale che non c'entra con il sedocismo e allora cerchiamo però noi di facilitare le cose e dire BC e AB connettono il centro del cerchio ACE alla circonferenza cioè facciamo il gioco di passare la congiunzione dalle due proposizioni ai due soggetti e però questo non è il medesimo di BC e AB connettono la coppia BC e AB connette il centro del cerchio ACE con la circonferenza si può ritenere che sia simile ma non è la stessa cosa in altre parole l'identificazione su rettizia di BC e AB con la coppia BC e AB è un unico oggetto è responsabile dell'apparente connessione tra le tre proposizioni nel presunto sillogismo che stiamo considerando lo stesso accade con i due personaggi Erlino e Dasipovio i quali sono anche più svergognati perché usano proprio strutture e non c'è argomentazioni non sillogistiche e poi le chiamano sillogistiche e quello che rimane di analogo con sillogismo c'è solo quest'idea che c'è una premessa c'è una seconda premessa e poi una conclusione e c'è questo Becchira che ha discusso estensivamente la dimostrazione di Erlino e Dasipovio del primo teorema sempre il solito e ha fatto vedere che è assolutamente insufficiente vi risparmio tutto questo Clavio e qui inizia ora un periodo di diciamo un po' furbacchioni che si schierano tutti con Clavio che dice una cosa estremamente sensata diciamo tutte le proposizioni non solo inutile ma in tutti gli altri matematici possono essere risolti nel veresimo modo i matematici tuttavia nelle loro dimostrazioni non usano una tale risoluzione poiché senza di essa essi dimostrano ciò che è necessario in un modo più corto e più facile l'idea è questa che però guardate quello che anche oggi direbbe un logico di professione c'è una dimostrazione matematica dice benissimo io ve la posso ridurre tutta in modus ponens negazioni e cose del genere generalizzazioni eccetera però in modo matematico di ragionare è molto più facile e quindi io mi attengo a quello e basta sapere che è possibile dare una forma logica a questa dimostrazione è lo stesso praticamente che dice Euclide e Clavio Clavio dice è noiosissimo fare la cosa per via puramente sillogistica in tanti matematici la fanno lo stesso basta sapere che si può fare e su questo si può fare e poi campano tutti quegli altri che vengono quindi questo è il punto vi ripeto vi ho risparmiato analisi puntuali che mi interessava dare un po' il succo della vicenda invece mi occupo nella parte restante di quest'altro problema strettamente connesso al primo perché capite bene che se in un sillogismo io presunto sillogismo io metto una premessa con una relazione nel diciamo relazionale poi non ho più a che fare con il sillogismo non so più nemmeno come il sillogismo funziona e quindi il problema delle relazioni è piuttosto importante e ci sono connessi due problemi piuttosto complicati uno è quello ontologico come da Aristotele in poi viene intesa l'ontologia delle relazioni e l'altro logico quando di fronte a proposizioni a dimostrazioni in cui entriano le relazioni come reagiscono nella tradizione allora il punto curioso parto dagli scolastici perché gli antichi è complicata la cosa c'erano gli stoici la pensavano diversamente da Aristotele e qui quello che conta è la tradizione aristotene allora i pensatori scolastici ammettono l'esistenza di termini poliadici e predicati poliadici cioè loro sanno benissimo che Giovanni ha dato un libro a Filippo questa qui è un annunciato che coinvolge il libro Giovanni e Filippo sanno bene però pensano che a questa struttura non corrisponda niente della realtà nello stesso senso in cui se io dico che la rosa è rossa il rosso corrisponde c'è nella rosa in qualche modo di essere quindi loro negano l'esistenza di proprietà poliadiche nel mondo esterno in altre parole noi si negano che qualcosa di non monanico corrisponda a un predicato poliadico come per esempio padre di nel mondo esterno allora accettano quindi i predicati poliadici ma negano che esistano proprietà poliadiche ora la cosa curiosa è che questo verrà accettato sia da realisti sia da nominalisti il mondo reale per un medievale è composto soltanto di sostanze individuali chiamate di individui individui chiamati sostanze e le loro proprietà monali cioè non c'è una proprietà reale come dice Leibniz per esprimersi in modo colorito con una gamba in una sostanza e un'altra gamba in un'altra o come Diofus e Tommaso e tanti altri nessun accidente passa da una sostanza a un'altra quindi mentre il rosso trasmigra o trasmigrare padre di no non è che passa se uno se A è padre di B e poi c'è un altro che è padre di un altro essere padre non trasmigra allora questo è Walter Barley uno dei maggiori logici del 14 secolo e dice supponiamo che John sia padre di William allora noi abbiamo i due individui John e William un insieme di proprietà non dice insieme insomma qui riassumo un insieme di proprietà monariche che costituiscono l'individualità di Giovanni e un insieme di proprietà monariche che corrispondono all'individualità di Guglielmo e poi abbiamo la proprietà relazionale essere padre che appartiene a Giovanni e la corrispondente proprietà relazionale essere figlio che appartiene a Guglielmo la relazione paternità che per Barley unisce John e Guglielmo forma una scusate la proprietà di paternità forma con John un aggregato e costituisce la relazione per cui John il padre si riferisce a William il figlio quindi essendo lui un realista ammette che ci siano proprietà universali come la paternità che in qualche modo legati a Giovanni legato a Giovanni genera la relazione esser padre di però lui è attento lo dice anche in un passo non esistono proprietà ponte che legano tra loro individui naturalmente alcune proprietà inferenze relazionali erano note e discusse dai logici medievali questo è un esempio di uno strano personaggio molto interessante che si chiama Guglielmo di Lucca e che è un autore del XII secolo seguace di Avelardo e dice dai relativi basati sulla regola che i relativi si implicano mutuamente e questo è Aristotele dice le categorie otteniamo questo argomento c'è paternità o padre dunque c'è filiazione o figlio dunque questo è il padre di quello perciò quello non è il figlio di quella medesima persona tutto ciò in virtù della regola che i relativi non possono concordare sotto il medesimo rispetto alla medesima cosa quindi se A è padre di B C non è padre di B dunque Socrate è il padre di Platone dunque Platone è il figlio di Socrate in virtù della regola che i relativi si riferiscono l'un l'altro quindi hanno un'idea delle regole che possano gestire gli enunciati relazionali fanno con disinvoltura additano con disinvoltura certi enunciati relazionali come paradigmatici però cosa succede? Se uno va a vedere vede che questo signore si limita a queste osservazioni sporadiche e non tenta di sviluppare l'argomento delle differenze relazionali ulteriormente altri logici medievali si comportano analogamente quando hanno a che fare con l'utopica delle relazioni Buridano per esempio sviluppa un trattamento questo è il caso più clamoroso perché sviluppa un trattamento di inferenze che contengono moltiplici generalità e relazioni che è piuttosto raffinato e preludi a una logica delle relazioni nel senso proprio per esempio dice tutti i figli del vescovo hanno un cavallo e poi ragiona quindi ciascun cavallo esistono cavalli dei figli di cui proprietari sono i figli del vescovo eccetera quindi fa cose abbastanza raffinate però vedremo entro un limite piuttosto forte il dominio logico nel quale Buridano si muove tuttavia è quello del tradizionale quadrato delle opposizioni di Aristotele allora Buridano espande il quadrato aristotelico ma sembra non essere interessato nel lavorare al di fuori di una struttura generale di una teoria delle inferenze relazionali allora un piccolo lessico i medievali e poi dopo tutta la tradizione chiamava terminus rectus cioè termine eretto un termine inennominativo rectus e obliquus deriva da come si chiamano i grammatici latini un termine obliquo è un termine che non è nel caso nominativo per esempio di cesaris di cesare homine all'accusativo eccetera e i medievali dicono esplicitamente che i termini obliqui in parecchi casi suggeriscono l'impresenza di relazioni di questo sono consapevoli quindi uno vuole cercare una logica ci vorreste cercare logica delle relazioni nei medievali va a vedere come vengono trattati i sillogismi obliqui o le obliquità ecco l'esempio questo è di Buridano tutti i muli di qualche uomo corrono i muli del vescovo il mulo del vescovo no scusate sì il mulo del vescovo è un mulo del medesimo uomo e qui siamo a livelli raffinatissimi e lo fate in inglese per dire facilissimo perché la seconda premessa è il mulo del vescovo è un mulo di questo medesimo uomo qui c'è il tentativo di venire al capo di un'anafora usando relativi del quale il quale eccetera e lui lo risolve così usa i usdem eccetera quindi vedete mettono nel sillogismo immettono anche le anafori e quindi la conclusione è l'assino il mulo del vescovo con si arriva a un certo punto poi la gente smette di occuparsi della logica medievale e c'è la reazione alle complicate argomentazioni logiche dei medievali e si arriva a questo autore tedesco Jokim Ungius molto stimato da Leibniz che nel 1630 pubblica la logica a Burghensis però pubblica prima scrive una tonnellata di pagine di logica che Leibniz a modo di vedere Leibniz lo apprezzava molto come logico questi testi poi bruciano in un incendio quanto che lui un suo allievo mutua il lascito di 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 vengono distrutti questi manoscritti però Leibniz ha fatto in tempo a copiarne una buona parte quindi perché sappiamo della logica di Jungius non pubblicata lo sappiamo attraverso i redditi di testi di Leibniz pubblicati di recente ora Jungius è un buon logico e fa una cosa epocale cioè fa il riconoscimento esplicito che alcune inferenze che implicano relazioni non possono essere ridotte al sinogismo sebbene queste inferenze non fossero sconosciute completamente ai medievali e anche Aristotele nei tofici Aristotele da degli esempi quel che fa Jungius è che asserisce in maniera categorica che sono primitive che non hanno una natura silogistica e non sono riducibili al silogismo questo è un passo molto importante una di queste cose che Jungius inventa è questa che c'era già però gli dà un nome Jungius dà un nome a questa inferenza che si trova già se lo sbaglio dei tofici è una conseguenza dal retto all'obligo e questi sono esempi ogni cerchio ogni cerchio è una figura quindi chi descrive un cerchio descrive una figura ogni noce è un frutto la o ogni come si chiama scimmia si nutre di noci quindi le scimmie si nutrono di frutta di frutti ora soprattutto il primo è evidente c'è un celebre passo di De Morgan di cui ci occuperemo chi resisterà la seconda puntata De Morgan porta un esempio proprio quell'esempio lì un esempio analogo di asserzione che non può essere ridotta al silocismo eccolo qui e questo è De Morgan ogni uomo è un animale chi uccide un uomo uccide un animale ed è la stessa inferenza propagandata messa avanti da Jung che non ci pensa nemmeno a conoscerlo da De Morgan però De Morgan dà grande peso a questa sua scoperta ma era già una cosa evidente a questo logico quindi quello che vi ho detto nell'eccerta che Leibniz vedete da Jung il silocismo tradizionale è espanso con l'inclusione di ciò che Jung chiama il silocismo relativo semplice e composto un esempio di semplice relativosilocismo è ogni figura è grande più grande di qualora che figura è scritta in essa cioè nella figura stessa il circolo è una figura eccetera eccetera quindi vedete anche qui anafora e uso poi proprio di relazioni ecco un altro importante personaggio in questa strada è questo Johannes Faghetius che è un allievo di Jungius pubblica un appellice alla logica hamburgensis e qui veramente è importante perché dopo aver discusso certi argomenti proposti da noi nei call suggerisce di come modificare in meglio cambiare la dimostrazione di Clavio del primo florema di Euclide per questo scopo prima cita la dimostrazione di Clavio e poi fa vedere come le cose sarebbero meglio se impiegasse se venissero impiegate sia la inversione di relazione che è una delle degli enunciati proposti da Jungius sia l'inferenza dall'ettono obliquo e Vagenzio attribuisce la veresima struttura logica per esempio a queste due inferenze della dimostrazione che noi ci siamo sciroppati e però in cui Vagenzio fa questo dipingere un'arte impara a dipingere impara un'arte e questo è curioso perché lui qui non sa come fare vedete il lato AB è qualcosa di identico ciò che è uguale al lato AB è uguale a qualcosa di identico vedete c'è proprio l'incapacità di riuscire a mettere a norma diciamo la logica diversa dall'assilogistica e si ricorre a questi trucchi qui abbastanza ingenui per certi rispetto però la cosa interessante è che questo Vagenzio si prende la dimostrazione di Clavio e la rifà dando spazio all'inversione di relazione al passaggio dal retto all'ubrico eccetera incidentalmente osserva anche che le cose funzionerebbero meglio se si potesse quantificare il predicato che lui fa cosa che lui fa nelle sue dimostrazioni cioè tutti gli A sono B tutti gli A sono alcuni B questo lui licenzia come legittima questa inferenza che verso la quale invece Aristotele aveva dato un parere negativo e quindi concludendo la sua prova modificata del primo problema da Occhide dice questa risoluzione libera da vuoti e senza sostituzione di sillabe o lettere in posto di altre a posto di altre a meno che non venga fatto nella forma di una certa conseguenza raccomandata da questa logica quindi la sostituzione deve essere uniforme per tutta la dimostrazione deduce la conclusione dai suoi principi per mezzo di una serie continua di ragionamenti coerenti di conseguenza nessun errore si può inserire dentro eccetera quindi c'è l'idea di costruire una catena formale di ecco Leibniz riconosce dopo aver letto i testi di Jungius riconosce che ci sono attribuisce ci sono parecchie inferenze includenti gli argomenti dal letto all'obliquo per esempio se Cristo è Dio allora la madre di Cristo è la madre di Dio e di nuovo le forme di argomento che alcuni buoni logici hanno chiamato inversione di relazioni alcuni buoni logici è sostanzialmente Jungius come è illustrato dall'inferenza se Davide è il padre Salomone allora certamente Salomone è il figlio di Davide qui c'è il punto interessato queste inferenze sono non di meno dimostrabili ricorrendo a verità sui quali gli ordinari sillogismi difendono quindi qui c'è l'idea che in effetti si possono dimostrare le inferenze non sillogistiche però ricorrendo alla logica superiore questo è il punto e là inizia e lavora una nozione di formalità molto più ampia di quella relativa analogica se logistica lui dice ma bisogna tenere presente che con argomenti formali io intendo non solo la maniera scolastica di argomentare che viene usata nelle scuole ma anche qualunque ragionamento nel quale la conclusione è ottenuta per virtù della forma senza nessuna necessità che ci sia aggiunto qualcosa così un surite un surite vuol dire una successione di sillogismi in questo senso o altre conseguenze di sillogismi in cui la ripetizione è evitata oppure un 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 calcolo algebrico un'analisi infinitesimale tutto questo io lo conterò lo considererò come argomenti formali più o meno poiché in ciascuno di essi la forma del ragionamento è stata dimostrata prima in modo che uno è sicuro di non andare a finire in errori la maggior parte delle dimostrazioni di Euclide sono molto vicine a essere in argomenti formali quindi qui ci si svincola poi completamente da ecco l'ultimo personaggio è questo questo caramoele l'homukovitz che è uno spagnolo che pubblica una logica obbliga quindi uno che prende proprio in considerazione le obbliguità quindi una logica delle relazioni e la pubblica nel 1654 e propone un'analisi originale della struttura di una proposizione elementare per farla entrare del sildogismo e qui è interessante perché dice esattamente la stessa cosa che dirà de morgan in qualche secolo per esempio dato l'enunciato Ferdinando è un principe apprezzato dal popolo egli considera Ferdinando e il popolo come i due termini della relazione e è un principe apprezzato da come la popola analogamente nel caso di Pietro può andare rapidamente a Roma Pietro e Roma sono i termini della relazione e potrebbe eccetera la copola che secondo lui quanto quanto dice è composta da tre parole quindi qui è interessante perché per la prima volta si ha quell'idea che la copola possa assumere la forma di una qualsiasi relazione non soltanto dell'inclusione così come Caramoe l'osserva le seguenti inferenze sono tutte varie Caio è il fratello di Pietro dunque Pietro è il fratello di Caio eccetera eccetera ecco mentre e questa è la cosa importante di Caramoe è che lui osserva che queste sono tutte inferenze valide perché sostanzialmente sono simmetriche e lui si accorge di questo anche i medievali ce l'era accorta però nei medievali non c'è nessuna teorizzazione di questo qua e lui invece per la prima volta lo teorizza lui osserva che queste sono invece invalide una malattia ha ucciso Pietro dunque Pietro ha ucciso una malattia un fiume ha inondato la città dunque la città ha inondato il fiume queste sono assolutamente invalide e quindi lui scrive questa regola generale se una relazione è simmetrica allora la sua conversione è eseguita secondo in modo usuale se è asimmetrica discrepanciosa allora è eseguita secondo lo stesso modo ma un singolo segno di negazione deve essere aggiunto alla proposizione convertita che come si dice modificando la copula trasforma la proposizione stessa in una negativa e questo non funziona quindi lui ha l'idea sana corretta che ci siano relazioni simmetriche e relazioni non simmetriche asimmetriche e da spiega come questo funzioni però poi per passare da una relazione asimmetrica da una pronunciata con relazione asimmetrica alla sua negazione alla sua conversa da una regola sbagliata quando la relazione è asimmetrica uno non può inferire da rxy che ryx ma non è corretto contrariamente a quello che Caramoy sostiene che si possa passare da rxy a non ryx è facile ci sono contre esempi banali da John da qualche cosa a Mary non segue che Mary non dà qualche cosa a John soltanto se la relazione non è mai simmetrica inferenze di Caramoy funzionano ma allora dare invidiare e così via che lui adopra verbi che lui adopra non sono esempi di tale relazione un altro esempio un'altra novità del trattato di Caramoy è il tentativo di trovare criteri per l'equiporlenza delle proposizioni oblique che contengono proposizioni quantificate e negazioni così per esempio Caramoy afferma che ogni santo ama ogni suo vicino è ripollente a nessun santo non ama ogni suo vicino e così via però poi si ferma e sono tutte il problema importante sia per questo che quello ultimo che vi faccio vedere è che queste inferenze funzionano in base alla upward monotonicity oppure alla downward monotonicity dei quantificatori del quadrato aristotelico tradizionale assumiamo A e B come nomi di un linguaggio naturale generale e F di A e F di B come enunciati che contengono questi nomi le regole della upward and downward monotonicity possono essere rappresentate come se se io ho un caso di upward monotonicity cioè vuol dire che se ogni A e B vale F di A allora vale F di B e invece la downward è nell'altro senso se ogni A e B F di B e vediamo gli esempi di questo un determiner cioè tutti o qualche non anche può essere monotono in alto a sinistra e se lo è significa che quando mette in relazione la classe X con la classe Y mette in relazione anche ogni super classe di X con Y prendiamo un caso di monoticità A on the left se il determiner connette X a Y e se Z e se X è incluso in Z allora mette in relazione Z a Y analogamente per la monotonicità A on the right se il determiner collega X a Y e se Y è in sottinsieme di Z allora collega X a Z ecco due esempi ogni è monotono down a sinistra è monotono up a destra per esempio è down a sinistra ogni cane corre ogni va sotto appartiene alla classe dei cani dunque ogni va sotto corre up a destra ogni uomo è animale ogni uomo appartiene agli esseri viventi dunque ogni uomo appartiene alla classe degli esseri viventi voi vedete già da questi esempi che se scegliete la la premessa minore in modo che ci abbia dentro delle relazioni funziona l'inferenza forse ho dato no non ho dato esempio e quindi tutte le inferenze con dentro le relazioni che fanno i medievali funzionano perché vedete già lì ogni cane corre mettiamo che io metta ogni cane ogni cane in possesso del vescovo scusate ogni cane corre sì benissimo ogni animale posseduto dal vescovo è un cane quindi ogni cane in possesso dal vescovo corre quindi ovviamente la relazione posseduta dal vescovo che poi funziona anche permette di fare la conclusione questi sono esempi standard che fanno i medievali e funzionano perché sfruttano l'upward o la downward monotonicity e quindi quando discutono inferenze caramoe seleziona solo inferenze che valgono in virtù del dictum de ogni nullo cioè dei principi di monotonia che governano i quantificatori delle proposizioni categorie questo è un esempio stiamo guardando noi guardiamo attentamente ad alcuni cani ogni cano è un animale capace di abbaiare dunque noi guardiamo ad alcuni animali capaci di abbaiare quindi c'è anche qui la quantificazione dentro però funziona semplicemente per via della monotonicità non c'è alcun riferimento a cose totalmente esterne a socialmente alle relazioni questo è interessante per concludere perché mentre gran parte degli esercizi dei medievali su le relazioni e gli auricoli rimangono non pubblicate rimangono inedite e qui si ha un caso nella logica del Sacchieri che è pubblicata nel 1797 in cui a stampa si ha una cosa piuttosto interessante perché si ha un'inferenza in cui entrano quantificazioni relazioni e negazioni e lui la tratta in maniera corretta e quindi è un testo accessibile anche a chi non aveva accesso ai testi medievali però nessuno se ne cura quindi no a demoglio vediamo il testo in terzo posto terzo luogo si consideri che le nuove le proposizioni che ho menzionato per essere contraddittorie devono essere differenti secondo alla quantità non solo per quel che riguarda il caso retto del soggetto ma anche per quel che riguarda i suoi complementi del caso dico se ce ne sono dunque la contraddittoria della proposizione ogni cavallo di qualche uomo corre dovrebbe essere qualche cavallo di ogni uomo non corre che differisce dalla prima non solo per la quantità di ogni cavallo che è il caso retto del soggetto ma anche per quello di qualche uomo che è il suo complemento indiretto in un caso unico ora questo è interessante rummessa perché non solo per questo ma perché è alla radice di una disputa piuttosto complessa allora questa qui ammette allora questo è ogni cavallo in inglese ogni cavallo di qualche uomo corre la particella ovvi questa proposizione corrisponde al genitivo in latino e esprime una relazione di possesso e implica un riferimento anaforico c'è un uomo che possiede cavalli e ogni cavallo di quest'uomo corre l'affermazione di Saccheri concedente a questa proposizione è che la sua contraddittoria è questa ed è corretto qualche cavallo di ogni uomo non corre è corretto fino a un certo punto perché vediamo se l'ho messa le cose che ho rinunciato a non sono così semplici è ambigo e può essere interpretato in dei modi diversi nel linguaggio naturale c'è un uomo tutti i cavalli del quale corrono oppure ogni cavallo che ha un uomo come proprietario corre e hanno una struttura formale diversa quindi anche la loro negazione è diversa comunque è vero qui è vero che B è la contraddittoria di A e quindi io per esempio quando ho fatto ho curato le dizioni italiane della logica demostrativa di Saccheri avevo detto che avevo considerato la A2 non la A1 come la corretta enunciazione formale diciamo della dell'enunciato A avevo legato quello e quindi poi diciamo non avevo fatto una scorrettezza però non era quello che intendeva Saccheri la cosa ha generato una piccola disputa perché mi è stato fatto osservare questa cosa qui chiaramente è un errore da parte mia però è un errore che era legato al fatto che questi medievali quando parlano di obliqui li pensano sempre come determinatori di proprietà non li pensano mai come relazioni in senso proprio in senso puro come qualcosa che colleghi due elementi o due classi ma li consiglia per esempio appunto tutti i cavalli del Vescovo del Vescovo particolarizza riduce l'ambito di tutti i cavalli allora io un po' dietro a quello ma chiaramente però faccio ammenda e Silvio Bozzi mi hanno fatto notare in una recensione giustamente questa cosa qui io mi fermo qui e non so se vi ho dato l'idea la volta prossima chiediamo chi esisterà la cosa si fa più interessante perché affronterà il problema di Kant allora Kant c'è un interprete kantiano che è Michael Friedman che ha scritto un bellissimo libro su Kant e le scienze che ha questa teoria il passaggio di Kant che gli fa istituire l'a priori sintetico cioè i giudizi sintetici a priori e che gli fa dire che i giudizi della matematica sono tutti i giudizi sintetici a priori è dovuta al fatto che lui si rende conto che la logica tradizionale siccome nella logica tradizionale insano le relazioni non è in grado di fare le dimostrazioni matematiche questo è più o meno l'assunto di Friedman secondo noi questo è sbagliato è sbagliato nel senso che Kant non si accorge di nulla in questo senso qui e che Kant sceglie e tira in ballo il sintetico a priori per altri motivi questo sarà l'argomento principale della prossima chiacchierata in più parlando di sostanzialmente De Morgan che è quello che introduce per primo un abbozzo di teoria logica delle relazioni questi diciamo saranno i due punti su cui roterà l'argomento basta grazie grazie a tutti grazie a tutti